benvenuti in questa guida top 7 stampanti multifunzione di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo hp laserjet m234 questa stampante multifunzione hp laserjet m234 sdw e è una scelta eccellente per la casa o l'ufficio offre stampe di qualità professionale velocità di stampa rapida e 6 mesi di piano toner instant ink incluso il design compatto e grigio bianco rende questa stampante facile da integrare in qualsiasi ambiente punteggio sesta posizione al sesto posto troviamo hp laserjet m140 we stampante a la hp laserjet m140 watt è una stampante multifunzione di alta qualità offre velocità di stampa elevate connettività wireless e un piano di toner instant ink incluso per 6 mesi la qualità della stampa è eccellente e la connettività wireless è facile da configurare punteggio 77 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo brader mfcl 3750 cd w stampante multifunzione a la brader mfcl 3750 cd w è una stampante multifunzione a colori led con fax 24 ppm stampa fronte retro automatica rete cablata wifi usb 2.0 high speed usb host adf 50 fogli touchscreen e inbox toner mille pagine è una stampante versatile veloce quarta posizione al quarto posto non poteva mancare hp envy inspire 7920 e stampante la hp envy inspire 7920 e una stampante multifunzione di alta qualità include 12 mesi di inchiostro instant ink che consente di risparmiare tempo e denaro la stampante offre stampe di qualità professionale velocità di stampa elevate e connettività wireless punteggio 85 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo samsung slm 2026 w questa stampante multifunzione samsung slm 2026 watt laser è un'ottima scelta per chi cerca una stampante di qualità ad un prezzo accessibile la stampa è veloce e di alta qualità con una buona gamma di opzioni di connettività la scansione e la copia sono facili da usare e offrono risultati eccellenti punteggio 88 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo hp laserjet enterprise flow m830z questa stampante multifunzione ricondizionata hp laserjet enterprise flow m830z è un'ottima scelta per le aziende che cercano una stampante di qualità con funzionalità avanzate la stampa laser di alta qualità la scansione e la copia in bianco e nero e a colori sono tutte facili da usare punteggio 90 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica brader mfcl 2710 dw stampante multifunzione laser la brader mfcl 2710 dw è una stampante multifunzione laser 4 in 1 bianco e nero con velocità di stampa fino a 30 ppm scheda di rete cablata wifi stampa fronte retro automatica adf da 50 fogli e display lcd facile da usare offre un'eccellente qualità di stampa e copia punteggio 91 punti info in descrizione grazie a tutti